Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un'equip medica composta da esperti affiancherà recarlo nella cura del cancro. A guidarla ci sarà il dottor Michael Dixon, medico generico di 75 anni, spesso criticato per le sue dichiarazioni in tema di omeopatia. Fervente difensore di questi metodi di cura alternativi, Michael Dixon, ad esempio, ha menzionato in un articolo un approccio per curare il cancro basato su una miscela di piante medicinali indiane e alcol. Sulla questione, dopo la nomina del medico, si era espressa anche Buckingham Palace. Il dottor Dixon non crede che l'omeopatia possa curare il cancro. La sua posizione è che le terapie complementari possano accompagnare i trattamenti convenzionali, purché siano sicuri, appropriati e basati sull'evidenza. Re Carlo ha un cancro alla prostata e sarà curato seguendo la medicina dell'evidenza con i farmaci suggeriti dalle linee guida internazionali. Un paziente di 65 o 70 anni a cui viene diagnosticato per la prima volta un cancro della prostata metastatico, grave come il suo, contare su un'aspettativa di vita media di 6 mesi. Una terribile notizia quindi, che speriamo non sia reale. Speriamo che Re Carlo riesca a riprendersi e superare la malattia.